Ce ne approfitto per salutare il mio partner di questa telecronica, Stefano Nava. Ciao Pier, un saluto a tutti i nostri amici. Sta per avere inizio la sfida tra Palermo e Inter. Prepariamoci dunque a seguire questa sfida che ha ovviamente come protagonista l'Inter. I loro tifosi hanno sopportato una prima parte di stagione piuttosto deludente, ma sono certo che ora si aspettino di vedere una squadra più combattiva, capace di lottare e tornare nelle zone alte della classifica. Per il Palermo c'è da interrompere la striscia dei risultati negativi al Barbera e la squadra meno vincente del campionato davanti ai propri tifosi. Non hanno raccolto alcun successo su nove incontri disputati in casa, Pier. Davvero troppo poco per una tifoseria come la loro che merita ben altre soddisfazioni e vedremo se oggi riusciranno ad accontentarla con una vittoria. Ecco gli undici di partenza del Palermo. Modulo dalla spiccata vocazione offensiva al 3-4-3 con cui scendono in campo oggi. Sarà una bella sfida, sono pronto a scommetterci. Ecco con l'aiuto della grafica la formazione dell'Inter. Scendono in campo col 4-5-1 anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Prova a calciare, attenzione! E il pallone entra ed è gol! Gol di rapina dopo la sfortunata deviazione del portiere. Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. La difesa qui ha dormito dopo la prima respinta del portiere. E ovviamente fiuto del gol per insaccare sulla ribattuta. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0 D'Ambrosio Brozovic Perisic C'è il triangolo Prova all'avanzata l'Inter Può riportarla in parità Intervento decisivo Rispoli Sarà dunque rimesso laterale per i nerazzurri Perisic Bravi qui a bloccare tutto Contrasto riuscito Palla che rotola via Ci sono metri a disposizione Illymark Palla che finisce in faro laterale João Mario Gran palla dentro Prova ad aprire verso il compagno Ha perso il pallone Illymark Palla che finisce sul palo Ribalza Attenzione Pericolo João Mario Buon recupero del pallone Possono ripartire Perisic Baragna metri Salta il difensore Fermano la malavra avversaria D'Ambrosio Occhio al suo movimento Passaggio perfetto Prova ad andare Si ripartirà col corner Per l'Inter Pallone molto Ecco il tiro E il pallone Finisce in gol E' una retenata Da un calcio in angolo Battuto davvero in maniera perfetta L'Inter ha sfruttato Una dormita collettiva Della difesa avversaria E l'ha punita E' anticipato i difensori L'ha messa dentro Decisamente bravo Ma deve ringraziare La difesa avversaria Per il troppo spazio Che gli è stato concesso Però lui Molto bravo ad approfittare Siamo di nuovo in parità Grazie al gol Dell'1 a 1 Illimark Apre benissimo il gioco Palla in mezzo Dopo un buon intervento Punta l'area Può giocarla il Palermo Gazzi Netta la posizione di offside Brozovic Ansaldi Non è facile trovare spazi Ci provano con la circolazione di palla Tiago Cionec Palla che esce Rimessa con le mani Per l'Inter Ansaldi Attenzione al movimento Dei compagni Joe Mario Una parata incredibile Occasione dalla bandierina Per l'Inter Brozovic Quarto uomo Esibisce la lavagna Tre minuti di recupero Rispoli Rispoli Illimark Stato fermato dal difensore Calcio d'inizio della seconda frazione Per l'Inter Gazzi Gazzi Che concede qualcosa Anche ai fotografi Si ripartirà Si ripartirà Con il corner Battuto troppo sotto Senza problemi per il portiere Occhio Cerca l'area di rigore Palla che filtra benissimo Grande chiusura difensiva Lo ferma Ma non controlla Illimark I padroni di casa Si preparano Il cambio E si Piero Vediamo cosa decide il tecnico Per la sostituzione Gazzi Palla vagante adesso Si avvicina all'area Palla spazzata via Occhio alle sovrapposizioni Illimark Attenzione all'azione del Palermo E c'è la conclusione Sembrava l'occasione giusta Per trovare il vantaggio D'Ambrosio D'Ambrosio E secondo me E' la scelta giusta E' la scelta giusta Finalmente equilibrata Nessuna delle due squadre Nessuna delle due squadre L'ha saputo imporre Il proprio gioco Fin qui Il proprio ritmo Attacco del Palermo Pericolo Hanno l'occasione di portarsi in vantaggio Cercano di aprire la difesa avversaria Attenzione al cross Icardi Calcio d'angolo contro il Palermo Occhio ai saltatori Condoppia Palla ancora in gioco Baragna metri verso l'area Cross è in mezzo Icardi Va con i pugni Il portiere Sarà calcio d'angolo Per l'Inter E la torre del Palermo Sceglie di effettuare un cambio Prova Con la testa Condoppia E qui Avrebbero certamente Potuto portarsi in vantaggio Siamo entrati Negli ultimi otto minuti di gara E' il momento decisivo Della gara Siamo nel finale Tutto può ancora succedere Rispoli Sventa qui la minaccia Occhio al suo movimento Perisic Hanno sprecato una buona opportunità Si rimane dunque In parità Lo ferma ma non controlla Ci sono metri a disposizione Può portarsi in vantaggio Ciocev Portiere che blocca Senza problemi Ci saranno da recuperare Tre minuti Come mostra la lavagna Del quarto uomo Palla in mezzo Dopo un buon intervento Spazzano via il pallone Inter che tenta Un ultimo assalto Per vincere la partita In questo finale Ottimo il tocco Ecco il tiro Rispi Prova a far partire il tiro Occhio ai saldatori Dell'Inter Joe Mario Pareggio allo scadere del tempo Dei 90 minuti Di capo Col 4 Proffi Consiclo Proffip Il tiro